Federico Gerardi, prime parole per lui da nuovo acquisto della Feralpi Salò, sei già arrivato in realtà da una settimana, però hai già avuto così la possibilità di vivere un po' l'ambiente, prime sensazioni per te? Sensazioni positive, il gruppo mi ha colto molto bene, sono felice di questo, penso che il gruppo sia le basi fondamentali per una grande annata, quindi sono contento. Sei reduce da diverse annate in Serie B, sei sceso di categoria, però penso che non calino le motivazioni e le ambizioni per te? No, anzi sono ancora più carico e motivato perché voglio far bene e ritornare in Serie B, soprattutto Mari con la Feralpi Salò anche perché dovremmo fare un campionato importante e me lo auguro. Sei un attaccante, sei una prima punta, però puoi anche giocare in diversi ruoli dell'attacco, l'hai fatto in carriera, non necessariamente il riferimento offensivo centrale che tutti magari si aspettano. Sì, adesso mi sono specializzato a centrale, comunque nella mia carriera ho giocato sia a seconda punta, ho giocato una volta pure trequartista a Reggio, quando ero giovane anche alla sinistra. Posso ricoprire tutti i ruoli, non ho un problema quello, mi ha dato con il mio compagno vicino, sono piuttosto d'utile, comunque sono un attaccante che piace attaccare gli spazi. Non sono stati con il centro, la classica boa per esempio, però posso fare anche quella all'occorrenza. Grazie a tutti.